Musica Anche quest'anno con la seconda edizione di Mediterranee abbiamo la possibilità di presentare alla comunità tarantina tre nuovi appuntamenti. Il primo proprio questa domenica 11 giugno di fronte all'ammiragliato quindi in corso due mari con i colori slow food, il mercato della terra dove avremo la possibilità di presentare 30 aziende che producono a chilometro zero, avremo anche la possibilità di avere la famosa cozza tarantina e quindi fare in modo che si possa presentare alla cittadinanza e avremo poi tante altre opportunità di conoscenza per quanto riguarda proprio il food. Subito dopo invece il 28 luglio ci sarà la possibilità di vedere presso il Castello Aragonese di Taranto la sfilata Haute Couture di Gianluca Saitto accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia che sarà presente durante l'evento. Avremo anche due nuove grosse novità, una dedicata alla sfilata di Rosso Rame e la seconda invece per quanto riguarda quella di Shoemura. Avremo un terzo ed ultimo appuntamento che è quello dedicato al Gran Galà di fine anno, il White Christmas, dove ci sarà la presenza dell'amministrazione comunale coadiuvata e supportata dal sistema bancario che partecipa e affianca questa manifestazione ma anche di grossi nomi dell'imprenditoria Tarantina e Nonna. Grazie per la visione!